Mantenere nel breve periodo i risultati ottenuti nel 2017 e poi crescere nel medio-lungo periodo anche con nuove rotte. Continuare ad alzare la qualità dei servizi, tra cui pure la sicurezza, puntare sulla forte vocazione turistica della regione e sul lavoro di marketing territoriale in sinergia pubblico-privato. Sono i primi obiettivi del nuovo direttore della SAS e la società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco di Assisi, Umberto Solimeno, che si è presentato stamane nel corso di una conferenza stampa. Sentiamolo. Allora, sicuramente comunicazione, tanta interna e esterna che sia fondamentale. Io sono molto per le sinergie con il territorio, con le istituzioni, i privati che promuovono il territorio, che promuovono l'Umbria. Quindi noi siamo un volano per la crescita della nostra regione e quindi di conseguenza subito al lavoro su questo tema.